E terza della classifica, del 12 per mille, con 7 punti, Servan Sara Anna Maria. Vince il premio come miglior campione regionale e arriva a seconda assoluta, con 7 punti, spada vittoria. Grazie a tutti. Il premio come miglior campione italiana è Sara Giulia. Il premio come miglior campione regionale è Sara Giulia. Il premio come miglior campione regionale è Sara Giulia. Grazie a tutti.